ciao a tutti ragazzi grazie mille per i commenti positivi nei nostri video e grazie per tutte le visualizzazioni che ci state dando vogliamo ricordarvi di iscrivervi al canale patria ok abbiamo dei contenuti bellissimi che aggiorniamo tutte le settimane grazie mille ancora ragazzi un bacione grandissimo contenuti nuovissimi solo per voi mi raccomando iscrivetevi subito clic ok ragazzi ammettiamo questo video e questo messaggio e questo messaggio ok Alla prossima 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 Alla prossima